Sars e Cosmi, il ricordo commosso di tutti, in particolare il suo qual è? Credo che è in linea con quello che lui ha seminato, se qui c'è tanta gente, ma soprattutto se il mondo del calcio gli ha dedicato questa attenzione, ma quest'amore, credo che provo esattamente le cose che ho sempre provato nei suoi confronti, oltre che un grande rispetto come uomo, ma una persona leale, schietta, combattente, appassionato, senti quante cose dico, ma soprattutto una, soprattutto, con la schiena dritta, senza mai farsi piegare da qualsiasi tipo di contraddizione, di sopraffazione, quindi, quando sento dire che non ha vinto, mi viene da ridere, lui ha vinto molto e più di tanti altri allenatori che hanno vinto. Grazie mille.